Cinque persone sono state condannate a morte e sette all'ergastolo per gli attacchi ai treni di Mumbai. Gli attentati dell'11 luglio 2006 causarono la morte di 190 persone e il ferimento di altre 820. Sette esplosioni che squarciarono i vagoni di altrettanti treni pendolari, allora di punta. Le bombe erano confezionate in pentole a pressione, poi nascoste in alcuni sacchi nelle carrozze di prima classe. Le indagini portarono all'incriminazione di 13 persone appartenenti al gruppo armato Lashkarra e Taiba, l'esercito del bene e al movimento islamico degli studenti dell'India.